Lo studio della storia rappresenta una delle vie per la ricerca appassionata della verità che da sempre pervade l'animo dell'uomo. Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza al Pontificio Comitato per le Scienze Storiche. Il Papa ha lodato le prossime iniziative di studio che riguardano la Prima Guerra Mondiale, di cui ricorre il centenario dall'inizio, e l'attenzione alle iniziative diplomatiche della Santa Sede per alleviare le sofferenze delle popolazioni. Le vostre ricerche, ribadito il Papa, segnate insieme da autentica passione ecclesiale e d'amore sincero per la verità, possono essere di grande aiuto a coloro che hanno il compito di discernere ciò che lo Spirito Santo vuole dire alla Chiesa di oggi.